Questa serata è dedicata ai due Vincenzi, Vincenzo Romano e io sono anche io Vincenzo altri Vincenzi non lo so che sono qui, la Teleradio Cipolla e Webcam in giro Cosa dite Lino di questa serata, stasera qua, non siamo a Botechero comunque che ne pensate della Madonna delle Galline? La prima volta venite qui? E' la prima volta, che ti voglio dire? Qua è una festa bellissima Siamo cucinando pasta e fagioli e tutti che collaborano, chi suona, è bellissimo Mi fa piacere che siete venuti voi, io vi voglio tanto bene da Teleradio Cipolla e Webcam in giro, grazie Affettuosamente Grazie